Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi facciamo l'aggiornamento firmware del ricevitore RealACC Rx5808. Installeremo il firmware Achilles utilizzando un programmatore FTDI, vi lascio tutti i link in descrizione. Per prima cosa scarichiamo i file necessari, andiamo su Google e cerchiamo Achilles Firmware. Poi apriamo la relativa pagina di rcgroups.com Scendiamo verso il basso fino ad arrivare a download, quindi scarichiamo il firmware. Continuiamo a scendere fino a trovare il link dell'Xloader, quindi lo scarichiamo. Una volta completato il download possiamo estrarre i file e cancellare gli archivi zip, perché non ci servono più. Adesso colleghiamo l'Rx5808 al programmatore FTDI, assicurandoci che sia settato sui 5V. Il ricevitore ha il pad DTR sulla sinistra e il pad GND sulla destra, mentre il programmatore ha il pin DTR sulla destra e il pin GND sulla sinistra. Quindi il programmatore andrà collegato rivolto verso il basso in modo che DTR e GND coincidano tra loro. Quindi colleghiamo il programmatore al cavetto USB, lo giriamo e lo colleghiamo facendolo passare da sotto in questo modo. Teniamo tutto con una mano assicurandoci che i contatti siano saldi e stabili. In alternativa possiamo usare una terza mano collegandolo sempre da sotto e assicurandoci sempre che i contatti siano saldi e stabili. Adesso colleghiamo il programmatore al PC e avviamo l'XLoader. In Device dobbiamo selezionare 2009nanoATmega328 In BoutRAID dobbiamo scrivere il valore di 57600 La porta COM scegliete quella assegnata al programmatore. Adesso scegliamo l'XFile, il primo che dobbiamo caricare è lepronclear.exe Lo selezioniamo e clicchiamo su Upload Una volta terminato il processo scegliamo l'Achillesv2.exe e clicchiamo su Upload quote Un decrease di fatto questa domanda Una volta completato l'upgrade del firmware possiamo rimuovere il programmatore e collegare il modulo negli occhiali. Per calibrare il modulo mettiamo l'RX5808 senza le antenne ad una distanza di un metro da una VTX settata sui 25mW. Quella di un micro drone come il QX90 va più che bene. Se avete una VTX più potente di 25mW dovete aumentare la distanza, ad esempio per una VTX da 200mW serviranno 10m. In questo caso consiglio di fare la calibrazione in giardino in modo da evitare interferenze. Il mio QX90 è acceso e sta un metro dagli occhiali quindi possiamo accenderli e iniziare la calibrazione. Perfetto, la calibrazione è stata effettuata con successo e ora possiamo accendere la calibrazione. Con successo possiamo mettere la cover e sistemare le antenne. Questo era il mio tutorial su come aggiornare gli RX5808 con il firmware Achilles. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.